Savona era di sinistra, la compagnia non ne parliamo e tutto un po', dove c'era il terminal vecchio di fronte alle funivie, lì di punta c'era il terminal della costa adesso, c'era il terminal della cellulosa, di punta attraccavano, quando venivano le navi militari, attraccavano gli incrociatori di punta e poi scendevano i militari per andare a terra. Quando scendevano dalle navi, li tiravano bottiglie, li tiravano le tue, perché non vedevano gli americani? Noi eravamo di sinistra e gli americani non andavano bene, che di fatti poi non sono più venuti. Anche perché poi parlando degli americani, gli americani prima di andare a Livorno, il porto di Livorno li hanno fatti gli americani, volevano fare la Savona. Questa è una cosa che dico, a Savona noi per il partito, per il partito comunista, un po' di quei tempi, noi abbiamo detto che no, quelli che vanno a sparare in giro e tutto un po', non possono venire da noi. A Livorno, che c'era il presidente della compagnia portuale che era Piccini, quando sono andato a parlare con lui lì ha detto, prima il lavoro e poi la politica. Gli americani hanno fatto il porto a Livorno, ci hanno fatto gli americani e noi abbiamo perso quell'opportunità lì. Io ti racconto un'eredoto che era micidiale, ma non più di Uro, che una volta al bar Calada, che era lì dal tabacchino, sulla Calata Sbarbaro, e c'era un nostro collega, che era un nomettino piccolino, tutto un po', ed era dentro al bar e c'era questo norvegese, qui un bestione enorme, che gli diceva, gli andava e gli picchiava sulla spalla, gli diceva box, box, e questo qui era piccolo, aveva paura, faceva finta di niente. E' passato di fuori un certo genio Bertone, dico anche il nome, che viveva in loco, che era uno di quelli che non stava indietro, che gli piaceva, e ne veniva da per funghi, ha posato il cestino di funghi, sentendo questo, e è andato lì, ha picchiato sulla spalla, a questo norvegese, si è girato, gli ha dato un cartellone, nella faccia l'ha buttato giù, si è preso il cestino di funghi e si è andato a casa. Questo per dite cos'era il porto. E te ne ha raccontato un altro bellissimo, perché questo è bellissimo, non era altro che, cioè sarebbe da scrivere un libro per quello che succede. Lì sull'angolo c'era, aspetta, dove c'è adesso la pizzeria di fronte a chiudebo, non so se era San Francisco o lo Scandinale, San Francisco mi sembra. Allora lì venivano gli americani, quando il tempo che c'erano gli americani che venivano, prima che li tirassero le bottiglie di birra e tutto un po', venivano gli incrociatori, navi militari, erano negli anni 65, 66, anche 64. Sti americani scendevano, adesso non so se San Francisco, proprio quello sull'angolo lì del palazzo vecchio che c'è di fronte al cuidebo. E andavano lì e bevevano, io mi ricordo, bevevano sempre, loro bevevano birra ai martini. Gli americani, il classico americano che scendeva a terra, quando pagavano, non faceva come pagano quelli normali, tirava fuori la manciata di dollari, tutta stropicciata, la buttava sul tavolo, no? E poi pagava, poi si schienavano e si bevevano. E c'era la gente di quelli che vivevano in loco, che facevano molta attenzione a queste cose qua. Allora, quando poi succedeva questo, continuavano a bere, questa cosa, poi uno veniva avvicinato e gli andava a chiedere se voleva una donna, se voleva andare con una donna, questo o quell'altro. Questo qui, in questo caso, gli ha detto di sì, gli fa bene, stai a sentire, gli ha detto, tu vai lì dietro, lì dove c'era il veliero, dove c'è lo scaletto, no? Vai lì dietro, che poi di lì andiamo, andiamo su in casa. Cioè, mentre lui andava di lì, c'era già l'amico che lo aspettava di dietro. Andato lì, un pugno, gli spogliavano nudi, che levavano tutta la roba, e andava in casa di uno. Poi, questo qui, quando andava su, che gli aveva rubato soldi, gli aveva rubato questo, quell'altro, no? Andava su, c'era quell'altro, perché sapeva, era tutto un giro. C'era quell'altro che sapeva, che aveva visto, che aveva fatto quel numero, gli andava a suonare la porta, e gli diceva, polizia! Allora, a quell'altro cosa faceva? Dalla finestra buttava via la roba. La buttava nel cortile. E nel cortile c'era già quell'altro che si prendeva la roba e se la portava via. Era tutto un giro così, e se lo facevano tutto fra di loro.